La memoria e l'innovazione sono due capi di uno stesso orizzonte. Memoria perché bisogna cercare di sedimentare a livello collettivo qualcosa che non può rimanere solo relegato alla memoria e quindi al ricordo individuale. Innovazione perché senza memoria difficilmente si riesce a fare innovazione. Innovazione nel senso di trovare dei linguaggi e delle capacità di interpretazione della realtà per poter costruire un futuro che sia in qualche modo legato a ciò che siamo stati e che sono stati prima di noi coloro che ci hanno preceduto. Quindi complimenti a Mediacor e sempre avanti tenendo conto del proprio passato.